Buonasera, sono Nicoletta Arbusti di Checcibo 6 Edizioni, siamo allo Chalet Fontana, Firenze, sulla collina di Piazzale Michelangelo per presentare questo ebook che è una terza riedizione della cucina garganica di Giovanni Nino Arbusti. È stato rinnovato nella grafica riprendendo il testo originale del 1988, rivisto però in senso grafico attraverso la collaborazione di Ruth Miriam Carmeli, alla quale passo la parola per spiegare come è stato da lei rivisto a livello grafico. Grazie Nicoletta, è piacere, sono Ruth Miriam Carmeli, mi occupo di comunicazione visiva e in questo caso ho avuto il compito di prendere la prima edizione del 1988, scusami, l'ho digitalizzata e poi c'è stata la scelta proprio di rendere omaggio all'illustratrice che è riuscita con questi bellissimi disegni a omaggiare il territorio del Gargano, quindi li ho digitalizzati, non ne ho intaccato il tratto ma l'ho associato a quelli che sono combinazioni cromatiche legate a quelli che sono il cibo quotidiano, caratteristico della zona, quindi... e in più ho cercato di giocare sul bicolore per evidenziare la doppia lingua perché questa è un'edizione che ha avuto il contributo di Massimo Marra nella traduzione di questi termini, di questi linguaggi in lingua inglese. Qui passo... Grazie, sono Massimo Marra e come diceva Miriam, sono stato coinvolto invece per dare un'ulteriore veste, non solo grafica, non solo un'edizione nuova ma una lingua, l'inglese ovviamente, per far sì che questo testo sia anche accessibile a un pubblico non solo nostro, italiano, ma a un pubblico italiano nel mondo o comunque a chi vorrà avvicinarsi a una lingua, una tradizione gastronomica che è quella pugliese e che in qualche modo ci riguarda in quanto comunque italiani, io non sono pugliese, ma ci sono vicino, ero, confinavo con questa regione e in qualche modo mi ci sono ritrovato e penso molti italiani all'estero potrebbero ritrovarsi anche pugliesi e è bello, è stato un bel progetto, mi sono divertito in qualche modo, mi sono divertito tanto. Ok, passo anche io il microfono. Grazie, io sono Marta Mariotti, sono un'amica da tanti anni di Nicoletta e conoscevo anche il suo babbo che è l'autore del libro che andiamo stasera a presentare e tra l'altro questo libro lo conosco, l'ho anche usato in cucina e mentre Nicoletta stava pensando a questa nuova edizione del libro io incidentalmente stavo lavorando su qualche cosa che riguarda la Puglia. Io faccio ricerca all'Università di Firenze e sono un'archeobotanica e mi occupavo di resti, tracce di uso, residui vegetali su delle macine del paleolitico, per l'appunto su una di Grotta Paglicci a Regnano Garganico. Per questo motivo Nicoletta mi ha chiesto se inserivo, se volevo inserire nel testo una scheda e così è nata l'idea di inserire alcune schede su dei prodotti tipici della cucina garganica, parlando della loro storia di quando è iniziato il loro uso dall'antichità. Passo adesso la parola alla... A Maria Tamma, sono qui, rappresento l'Associazione Pugliesi a Firenze, è presente da diversi anni ormai e noi cerchiamo in questo luogo di trasmettere comunque, di far conoscere le nostre tradizioni anche in terra toscana, che è una terra comunque aperta ad accogliere il diverso e quindi ci piace in un mondo che tende alla globalizzazione comunque far conoscere le nostre tradizioni anche in cucina in modo da preservarle e quindi in questo modo permettere la conservazione di un patrimonio pur in una terra diversa dalla Puglia. Penso che possa andare bene. Diamo la parola... Chiudo io che ho aperto. Noi siamo molto contenti prima di tutto di essere tutti insieme, ma alcune di queste persone hanno conosciuto come ha detto bene la professoressa Mariotti, anche mio papà e questo mi fa molto piacere, stasera sono con noi, magari non in questo momento ma di là e diciamo, facciamo una festa, diciamo così, alla regione Puglia sicuramente, al connubio con la Toscana, poi lo vedremo con la cena che ha preparato utilizzando le ricette del libro, dell'ebook Filippo Saporito, questo chef stellato, che ha realizzato la cena qui allo Chalet Fontana e unendo i vini toscani, i vini della fattoria di Montecchio che ha collaborato con noi, quindi abbiamo unito Toscana-Puglia e soprattutto per festeggiare anche la cultura italiana e quindi la tradizione culinaria italiana che è così amata nel mondo e ciò che vogliamo fare è preservarla e diffonderla, ecco perché l'inglese ed ecco perché l'importanza della grafica è per comunicare.